Devo dire che il primo decollo del 104, sul 104, con l'istruttore ovviamente, ho detto ma io non ce la farò mai a seguire o a star dietro a questo missile praticamente con un motore che non finisce più e invece piano piano, l'essere umano è un essere molto flessibile che riesce a organizzarsi mentalmente insomma alla fine si aveva tutto il tempo per guardare gli strumenti, per accorgersi di tutto e di ogni cosa durante il decollo però il primo volo sul 104 penso che non sia stato traumatico solamente per me ma per tutti quanti soprattutto per coloro i quali venivano da un F84 il quale d'estate riusciva a decollare agli ultimi 100 metri di pista insomma e così succede che mentre sono a Willenshafen mi nasce la figlia con anticipo e allora i tedeschi, brava gente, mi danno un T33 e andiamo in due, andiamo a Rimini e naturalmente quando nasce un figlio o uno soprattutto non essendo presente perché lì per lì insomma si sente anche un po' in colpa a vedere questo esserino che poi è diventata con un caratteraccio che mia moglie dice che ha preso da me, vabbè ma comunque mentre sono lì tranquillo e beato al quinto, allora era quinto stormo avevamo gli ultimi 104, quelli fotografici al 101 mi chiama il comandante del reparto volo e mi dice sai che c'è di nuovo e dice devi andare in accademia a comandare in corso e io lì mi sono sentito veramente morire perché si stava benissimo al gruppo si volava, non c'era limiti per chi aveva voglia di volare e comunque bisognava dire signor sì e il corso da comandare era il corso Eolo III il corso Eolo III che dopo due anni di comando che sono serviti tantissimo a me per riuscire a capire nei primi 5 minuti chi fosse colui che era davanti a me perché con 104 ragazzi, uno diverso dall'altro cercando di conoscerli tutti per bene è un esercizio che è notevole e io praticamente a questo punto appartengo a due corsi appartengo al corso Pegaso II e appartengo al corso Eolo III tant'è che oggi ho messo due anelli di corso qui bel corso veramente noi abbiamo fatto nessuno sconto a nessuno durante il periodo di Lecce mentre ho finito dopo i due anni chiedo vado a Rimini anzi e il comandante del reparto volo mi dice vedi quella sedia lì è per te quella scrivania la scrivania è per me ma sono stato fuori dall'attività di volo per due anni adesso mi fate mi date una scrivania eh sì ma abbiamo bisogno di uno per la sicurezza a volo e allora ho ricattato tutti i santi possibili che avevo in paradiso pregandoli e sono stato destinato al ventesimo gruppo cioè volevo andare e continuare a volare in un posto in cui si poteva volare e non si centellinavano le ore di volo mentre ero a Rimini e comandavo la squadriglia arriva un giovane pilota di complemento che si chiamava Gianni Tempioni Gianni Tempioni era un bolognese allegro spensierato che sapeva volare bene che amava gli scherzetti per esempio lei provi a comprare una macchina nuova parcheggiarla al circolo ufficiali e trovarsi con una chiazza di olio sotto il motore messo naturalmente da Gianni Tempioni ecco questo ha fatto impazzire Giovannino perché era lui il proprietario della macchina nuova e non sapeva non riusciva a vedere da dove colasse questo olio che c'era sotto il motore io ho fatto il corso istruttori lasciva insomma a grottaglie dove ho patito un freddo terribile era gennaio arrivo al ventesimo e mi ritrovo Gianni Tempioni il quale mi fa che piacere ben arrivato che piacere è volare insieme e così un giorno c'è un decollo di un frequentatore e noi due io dovevo ancora imparare a fare l'istruttore sul 104 io dovevo fare la transizione a istruttore in genere l'istruttore sta dietro nel velivolo biposto mentre chiamiamolo il frequentatore chiamiamolo allievo sta davanti quindi tutto l'addestramento di uno che dovrà diventare istruttore è da dietro cioè è nel posto posteriore però dovevo imparare a fare tutto quanto quello che fa un istruttore o che può fare un istruttore con un allievo che secondo lui è alle prime armi non sa muoversi e quindi noi facciamo da da ceisa questo pilota anziano quindi un pilota che aveva ore di volo e che non non aveva bisogno di essere seguito comunque andiamo in zona Trasimeno facciamo delle virate sfogate dei looping dei tonneaux l'avvicinamento allo stallo e poi siamo a circa 10.000 piedi e dovevamo rientrare a 27.000 piedi a a Grosseto eravamo un po' separati mezzo miglio insomma se non che dico ok Luciano saliamo a 27 a e lui si ferma e livella a 17 0 e Gianni fa ah il Pollacchione ha sbagliato a leggere l'altimetro allora gli dico Luciano a che quota sei ah in quella vedo lo sbuffo di lui che dà motore per salire a 270 e anch'io do motore e da quel momento praticamente si sente un un suono cupo e la mia sensazione perché immediatamente ero in visione nera è di una grossa imbardata a destra e e Gianni fa lanciamoci marcello lanciamoci io ero già che non avevo dubbi che ci si dovesse lanciare se non che la forza di gravità o le forze di gravità indotte erano talmente tante che io non avevo non vedevo avevo la visione nera che cercavo di muovere le mani per andare a prendere la maniglia di edizione e non ci riuscivo se non che a un certo momento abbasso la testa e in una porzione al centro della della visione vedo che le mani sono vicine alla alla leva di di espoluzione non mi ricordo di averla tirata e da quel momento praticamente mi risveglio che sono stato a 100 metri da terra l'opzione era andare su un albero o andare dentro un fiumiciatolo però non non c'era tempo per governare nel tempo per far niente cado sull'albero prendendo un sacco di botte ma per fortuna essendo svenuto e ci ho messo parecchio a febbraio faceva fresco non avevo sganciato il pacco di sopravvivenza il quale ha tranciato diversi rami se no molto probabilmente le gambe si sarebbero rotte in questa in questa caduta guardo tolgo arrivo a terra tolgo il paracadute e vedo una 500 su una strada di vicino i quali su queste 500 mi mi prendono e mi portano dal medico condotto di valfabbrica e lì io sapevo che eravamo in due e gli chiedo a questi due che poi erano degli stradini gli chiede l'altro paracadute dice no ma noi ne abbiamo visto uno solo io lì per lì non ricordavo chi fosse con me la cosa chiara però che avevo la mente umana è stranissima è che era scapolo e questo già mi naturalmente il momento che lui ha avuto essendo davanti rispetto a me che ero più verso il centro di gravità mentre il velivo lo stava arrotolando e adesso spiegherò perché perché si era staccata la tip la tanica all'area sinistra era andata contro il piano di coda e praticamente l'aereo è cominciato a arrotolare e fra l'altro dopo quando c'è stata l'inchiesta eccetera mi è stato detto che il cannone che buttava fuori il seggiolino a 16G non mi aveva portato fuori dal velivolo ma i razzi perché c'era il colpo e poi i razzi che tiravano erano sfiammati dentro la cabina quindi non so come sono uscito e il seggiolino che era il c2 non era ancora il martin becker ha fatto tutto da solo per fortuna devo dire quindi quando l'aereo ha perso è andato a rotoloni io ho avuto un momento di pressione molto superiore molto inferiore o molto inferiore non so molto non so quanto ma certamente inferiore a quello che ha avuto Gianni perché Gianni era più distanziato dal centro di gravità del velivolo il quale rotolando naturalmente subiva la cosa tant'è che appunto a me 16G di botta da parte del seggiolino da parte del cannone che faceva la botta e poi c'erano i razzi stabilizzatori non è servito non è bastato a tirarmi fuori dall'aereo quindi noi stavamo subendo più di 16G i razzi sono sfiammati dentro la cabina poi non so perché ero svenduto non so chi mi ha tirato fuori può essere che i razzi abbiano iniziato a sfiammare dentro la cabina e poi mi abbiano tirato fuori ecco una cosa di cui mi devo rimproverare è che solamente dopo una decina da anni ho pensato che dovevo la vita anche a chi aveva ripiegato il paracadute e allora sono andato a Grossetto l'ho conosciuto e l'ho ringraziato perché ripeto la sequenza di lancio è stata perfetta ma nella quale io non sono intervenuto non ricordo di aver tirato la maniglia ricordo solo di aver visto che le mani erano lì poi poi non so chi l'ha tirata forse qualche angelo custodia non lo so la cosa strana che ancora ho nelle orecchie è il rumore sentito mentre mi sono risvegliato dell'aria e del paracadute che scendeva poi il medico condotto mi visita chiama un'ambulanza mi portano all'ospedale di Perusa e lì c'erano ancora le suore non c'erano le infermiere e una suorina mi dà subito un bicchiere di di aranciata una spremuta d'arancia e poi sapendo che mi piaceva molto mi hanno molto viziato con le spremute d'arancia anche lì mi portano in in sala raggi e a quel punto mentre sono sulla barella per la sala raggi mi viene in mente che con me c'era Gianni Tempioni e in cuor mio ho pianto il piangibile o quello che era possibile piangere perché perdere una persona con la quale si è volato al al gruppo a Rimini e poi si è volato a a a Grosseto è stata una cosa veramente bruttissima vabbè dopo dieci giorni mi liberano dall'ospedale e mi portano a Grosseto io diciamo che il primo volo dopo il lancio l'ho fatto praticamente un mese dopo il lancio per fortuna mi hanno fatto volare ha una cosa in particolare molto simpatico è stato che viene il medico di storm e mi dice sai ho dei problemi con te che problemi e dice ah mi sa che tu abbia il diabete e il diabete era motivo di non più non più idoneità al volo e io ci sono rimasto come un cane e poi ci ho pensato e ho detto ma scusa io mi sono lanciato verso le dieci e mezza o undici ma la colazione l'ho fatta la mattina quindi chiaramente avevo dello zucchero nel sangue non ci avevo pensato però la fifa che mi aveva fatto fatto provare era era notevolissima insomma uno dice beh col diabete non posso più volare io ho avuto conseguenze alla schiena perché mannaggia cosa ecco che mi ricollego a Brutti perché mi hanno fatto la radiografia ma la radiografia era antero-posteriore e tutto andava bene in realtà dovevano fare antero-posteriore e laterale quando Brutti si è lanciato io ho detto fategli perché ormai il danno mio non se ne sono accorti che ho due vertebre schiacciate dorsali no fategli una non solo la radiografia antero-posteriore ma anche laterale e non aveva niente perché lui non è caduto su un albero insomma non ha preso le botte o dire io naturalmente avevo un occhio nero avevo un versamento per fortuna anche lì devo ringraziare la sanità i medici dell'ospedale perché mi hanno controllato gli occhi e avevo un versamento di sangue sulla retina e lì mi hanno tenuto per dieci giorni fermo in modo che si riassorbisse perché se non si fosse riassorbito molto probabilmente ci sarebbe stato qualche problema sulla retina ecco lì scrupolo da parte di persone scrupolo anche perché avevo un occhio nero proprio pesto non so se fosse il destro o sinistro mi pare di ricordare il destro l'altra cosa è che non ho perso l'orologio cosa stranissima perché ho perso il casco e avevo il sottogolo lei è andato a cadere in località Sambuco a Valfabbrica che è una come tutte le cittadine che sono ridenti dell'Umbria e il sindaco di Valfabbrica a un certo momento ha voluto intitolare una piazza a Gianni Tempioni e io ho voluto fare quel monumento di cui ho portato la fotografia perché mi sembrava troppo poco la cosa e c'è la fotografia purtroppo nella fotografia i colori della coccarda sono un po' sviaditi ma attualmente sono stati ripristinati e sono come dovrebbero essere era il TF 104 G TF 104 era aveva il numero come noi usavamo chiamare di carrozzella era il 20 perché 20 era il ventesimo 11 e io poi ogni 10 febbraio andavo a trovare sua madre e suo padre a Bologna fin quando erano in vita e Gianni non si è accorto di morire così come non me ne sarei accorto io se non avessi forse istintivamente tirato la maniglia del lancio perché ripeto che io sono stato ed è un periodo di circa 10 minuti per scendere da 17 mila piedi fino a terra col paracadute col freddo del 10 di febbraio per cui insomma la botta era non la botta era uno svenimento piuttosto piuttosto consistente insomma è stato ho imparato che cosa significhi una frazione di secondo perché è una frazione di secondo è stata ma e di secondo di secondo non si 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 se Grazie a tutti